Dopo le ultime due vittorie, cinque vittorie e una sconfitta come vi dicevo e sarà attesa domenica prossima. Poi al Bing Match al Forum in casa dell'Olimpio a Milano ma dovrà passare prima. E adesso vediamo la risposta dei padroni di casa con la prima azione manovrata dal palleggio di Spissio. Il gioco 2 con Tessitori che va a schiacciare e comincia subito con la schiacciata. Taker, finta il tiro, Taker, cambio di mano, ancora sul plus per il playmaker di Venezia che scarica fuori per Casarini che parte in uno contro uno nell'angolo per Taker per il primo tiro da tre della sua serata. A canestro nella parte opposta per Casarini il pallone per Sims, tiene bene in difesa Lazzeschi fuori per Tessitori che parte in uno contro uno, appoggia il pallone a Sims che va ad appoggiare senza problemi Amir Sims. Dall'altra parte per l'azione manovrata con Casarini verso Spissio, il blocco di Sims che poi taglia, va fino in fondo, fallo in difesa fischiato a Jonas Risma. Vediamo se forse Risma si sposta un attimo sulla sinistra all'ultimo momento. Giocato dalla Reier con Brown in posizione di play per Wiltshire per il primo tiro da tre della sua serata, attenzione al 33 negli Stati Uniti per motivi familiari. O'Connor dall'angolo si alza per il tiro da tre, sbagliato, si vola a rimbalzo con la schiacciata che spinge il contropiede per Morris, che si alza per il tiro da tre, sbaglia però Morris. De Nicolao stavolta per il tre contro uno di Venezia, pallone per Brown che tira in reverse, va a segnare. Dieci di svantaggio nel primo quarto, questo è il massimo vantaggio per la Reier fino a questo momento. Morris poi passaggio. Lo stesso aveva ottenuto Brindis nel primo quarto, fa girare palla Wiltshire in possesso di palla, in palleggio, sull'attacco e cambio difensivo di Morris, e questo è un assist. Venezia in possesso di palla con Brown, prende il blocco da tessitori, va di mano sinistra però Brown, si ferma per Tucker che tira da lontanissimo, Region Tucker, vuola Simms a rimbalzo, spinge lì la transizione offensiva per Venezia, poi si ferma perché Brindis è già rientrata. Allora Brown va fino in fondo, grande giocata di Barry Brown. Da giocare, si parte con la rimessa di Venezia, con Wiltshire che va a servire De Nicolao, lasciato colpevolmente solo dalla difesa Brindisina. Morris, arriva Risma, Morris prova ad attaccare De Nicolao, si ferma, va fino in fondo, e Morris si fa soffiare il pallone. Grazie. Grazie.